Buongiorno, venerdì 27 luglio 2012, Montegrotto Terme, Trust Day. Abbiamo piacere di avere come ospite l'Avvocato Giovanni Mattana con uno studio legale a Palermo e a Milano, ma sarà lui che si presenta al meglio e ci dirà perché a questo Trust Day, perché è importante essere al Trust Day e di cosa si occupa lei principalmente. Buongiorno, io sono l'Avvocato Giovanni Mattana, mi occupo di materia tributaria in generale, civile, e comunque sono qui anche per approfondire la mia formazione sul Trust, visto che è un argomento molto attuale e direi anche fondamentale per l'assistenza alle aziende che vogliono securizzare i loro patrimoni e gestirli in maniera snella ed efficiente. Abbiamo visto su Professionisti Online che lei è il referente per la Tomerex, per quanto concerne le aziende, negli Emirati Arabi, per appunto esportare negli Emirati Arabi. Come mai, come si trova, quante aziende possono essere interessate e perché lo sono? Allora, intanto essere il referente della Tomerex per quanto riguarda la Sicilia è per me un onore perché con aver conosciuto persone a livello della Tomerex, persone serie, preparate, affidabili e, devo dire, gentilissime, mi ha entusiasmato fin dal primo congresso a cui sono stato presente, cioè quello di Firenze, e appunto quello sulle Emirati Arabi, dove ho imparato tanto, tanto, devo dire, su quelle che sono le possibilità di espansione, di export per le aziende non solo siciliane ma anche italiane in questo grandissimo mercato che presenta dei vantaggi indubbi in termini di fiscalità, zone franche, che, per esempio, là c'è veramente tante opportunità di poter installarsi e impiantare attività produttive con molti vantaggi fiscali e, devo dire, sicuramente una regione come quella degli Emirati Arabi, dove il prodotto interno lordo non è mai sceso sotto cifra del 9 al 10%, questo presenta sicuramente per tutti quelli che vogliono andare in questa zona delle indubbie potenzialità di crescita. È veramente un piacere avere con noi l'Avvocato Mattana e la sua signora e la signora Antonella. Vi ringrazio e vi auguro un buon Trust Day e ci vediamo su Professionisti Online. Per tutte le aziende della Sicilia il referente è l'Avvocato Giovanni Mattana. Grazie e buona giornata.